Grazie. Buonasera a tutti, grazie della vostra presenza. Grazie a tutti, grazie della vostra presenza. Cristian Gannis e Chiara Minelli, non ho visto altri e saluto in particolare il sindaco e gli amministratori di Veres che ringrazio anche per la disponibilità della sala. Ve l'abbiamo un po' invasa con della tecnologia nuova anche perché è una sala molto bella ma forse ha bisogno di essere un po' ammodernata. Anche perché abbiamo previsto uno streaming per dare la possibilità a coloro che sono un po' più distanti e hanno necessità però di essere informati di seguire questa quarta riunione sul territorio. Oggi non c'è bisogno di lunghe premesse ma di chiarire alcuni aspetti e soprattutto di continuare a capire come stiamo lavorando e a presentarvi il modello di lavoro che stiamo portando avanti. Siamo ormai a quattro giorni, cinque giorni dalla chiusura quindi l'anno nuovo inizierà con il grande cambiamento che tutti conosciamo, cioè l'interruzione della ferrovia e la partenza di un servizio sostitutivo con le 99 corse che abbiamo previsto in questa fase. Quello che abbiamo fatto in questo ultimo periodo è da un lato completare il rapporto di contratualizzazione e di amministrativo con Trenitalia, qui a fianco a me oltre al dirigente della struttura dei trasporti Marco Trevisan ci sono Fabio Cairoli che rappresenta la direzione di Trenitalia in Valle d'Aosta e poi presenterà a lui i responsabili di Bus Italia e poi l'azienda La Vita, Gian Pier Cagliera che tutti conosciamo, che si è giudicata il servizio di fornitura degli autobus sostitutivi. Questa sera dopo la mia brevissima illustrazione daremo la parola a Trenitalia che presenterà appunto la Bus Italia e il lavoro che è stato fatto, quindi cosa è stato contratualizzato e poi vi abbiamo distribuito per comodità vostra anche una coppia cartacea degli orari che sono attualmente sul sito, che sono stati modificati, orari provvisori, che sono stati modificati rispetto alla prima edizione e poi la parola a voi per un ulteriore confronto è un'ulteriore tappa da portare avanti. Il metodo di lavoro lo conoscete, non esiste rispetto a un evento così importante, impattante per la comunità, un modello pronto. Credo che nessuno abbia mai affrontato, è successo durante l'alluvione, per un periodo, ma in una situazione socio-economica completamente diversa. Qui abbiamo il mondo che avanza, tutto che va veloce, l'economia che realizza i suoi progetti e la ferrovia che si ferma. Quindi sono due logiche che si contrastano e nonostante questo non possiamo subire una situazione come questa. E' quello che abbiamo cercato di fare, di organizzare, senza parlare oggi degli investimenti che sono stati presentati sull'infrastruttura e negli scorsi mesi abbiamo cominciato a lavorare con voi, prima presentandovi un'idea di un progetto con dei criteri alla base per realizzarlo e dopo per migliorarlo. Io considero questa tappa come una tappa di presentazione di quello che è stato modificato, ma allo stesso tempo una tappa di raccolta di un lavoro che continuerà a gennaio, febbraio, marzo e probabilmente aprile e a maggio perché non essendoci un progetto pronto, non essendoci un'abitudine delle persone a utilizzare 99 autobus al giorno per spostarsi verso Osta, verso Ivrea, visto che siamo a Veresse o da Ivrea verso Osta o da Osta verso Ivrea, visto che serviamo due capoluoghi e non sappiamo cosa succederà, ma lo abbiamo provato a immaginare. Provato a immaginare cosa vuol dire? Che abbiamo ricostruito attraverso un modello su gomma i collegamenti tra Osta e Ivrea e tra Ivrea e Osta cercando di continuare a dare continuità al servizio ferroviario da Ivrea in avanti per due motivi, uno per mantenere e valorizzare gli investimenti che comunque l'amministrazione sta sostenendo con il contratto di Trenitalia, un contratto che nei cinque anni vale più di 83 milioni di euro più di 16 milioni di euro all'anno, quindi noi oggi paghiamo una parte di questo servizio ferroviario pagavamo una parte di questo servizio ferroviario, anzi abbiamo pagato fino ad oggi il servizio ferroviario per realizzarlo completamente su ferrovia, domani lo pagheremo per sostenerlo per una buona parte su gomma e per la restante parte su ferro, però il contratto rimane quello originario per fortuna perché ci sono le risorse per pagare tutto quello che abbiamo organizzato e bisogna fare appunto il lavoro migliore possibile perché quello che ci interessa sapendo bene che la bacchetta magica per far andare i veloci pullman quanto i treni non ce l'abbiamo perché il treno va sempre dritto e l'autobus deve fare un percorso differente, è quello di cercare le migliori condizioni perché i tempi di percorrenza siano sempre più efficaci nei prossimi mesi e che soprattutto la capacità di carico di questi autobus sia sufficiente per dare una risposta a tutti i bisogni che ci sono. Abbiamo aperto l'orario provvisorio per lasciarlo alle vostre valutazioni, in questi mesi abbiamo cercato di costruire un percorso serio di rapporto tra amministrazione regionale e cittadini e tra cittadini e amministrazione regionale tutti amano dare i propri consigli e sono sempre ben accetti ma i consigli che si lasciano in giro per la strada non possono essere raccolti. Noi abbiamo creato un sito istituzionale con la possibilità di darci la vostra opinione attraverso i 400 caratteri che vi permettono di esprimere un giudizio, una valutazione o di fare una proposta. In questa prima fase abbiamo raccolto un centinaio di indicazioni, molte di queste sono simili, tante di queste sono singole, che vuol dire che per chi deve governare questo sistema in questo momento è facile dare una risposta dove le domande si assomigliano, addirittura sono uguali. C'è stata l'ondata del primo giorno della corsa delle 15.40, se non mi ricordo male, che arrivava in particolare dal mondo della sanità, ma non solo. A questa abbiamo cercato di dare una risposta, è arrivata una proposta da una dirigente scolastica che rappresentava comunque una scuola sulla corsa delle 17.40. Quindi ci sono cose che hanno originato un pensiero per cercare di migliorare i nostri servizi ma che hanno raccolto anche un'esigenza importante. Ripeto, dove invece ritroviamo l'idea del singolo la valutiamo con più calma perché non dobbiamo neanche rischiare, stiamo parlando di trasporto collettivo, non possiamo neanche rischiare di accontentare una persona e di scontentarne 50. Ecco, quindi quando si tocca un orario sapete bene che magari si risponde a un bisogno di una persona ma poi c'è il rischio di perdere di vista i bisogni degli altri. Quindi io vi chiedo e vi ringrazio perché in tutti questi mesi tutti quelli che hanno scritto hanno sempre scritto in maniera molto costruttiva, educata. Vi chiedo di continuare a lavorare con noi perché l'orario lo abbiamo chiamato provvisorio apposta. È un nome che non piace tantissimo a chi deve gestire il servizio perché non si può cambiare il modello di esercizio una volta al giorno. Ma lo dico scherzando. Ma il provvisorio sta che avremo bisogno di un po' di tempo per capire dove gli autobus hanno la migliore risposta, dove gli autobus possono essere carenti, dove certi tratti a parità di costi possono essere migliorati per avere un maggiore benessere nel viaggio. Perché tra le cose che cambieranno è evidente che si allungheranno un po' i tempi ma sarà anche un po' diverso la tipologia di viaggio. Quindi stiamo ragionando su alcuni tratti che possono essere portati, ovviamente con dei maggiori costi, in autostrada senza incidere sui servizi di nessuno. Perché ci sono tratti che non tolgono fermate e quindi possono agevolare sia in salita che in discesa sia la velocità che il benessere del viaggio. Quindi su questo c'è un lavoro. E noi ogni 15 giorni cercheremo di fare un po' il punto della situazione e di elaborare delle risposte. Dico subito che per ora una delle osservazioni anche che è stata fatta da un po' di cittadini, utenti, è quella del collegamento diretto dell'autobus con Torino. È un tema aperto sul quale dobbiamo ragionare e sul quale ragioneremo perché anche lì dobbiamo capire di che orari parliamo. Ecco perché poi andare a Torino vuol dire raggiungere chilometri, cambiare il modello che è stato pensato, che è stato quello di portare la gente a Ivrea e riprenderla ad Ivrea. Però ci rendiamo conto che chi fa un viaggio lungo sia in arrivo che in Aosta, che in Valle d'Aosta, che in discesa verso il Piemonte, è una persona alla quale dare comunque la massima attenzione perché i giorni sono tanti, i percorsi sono lunghi, l'anno diventa faticoso se i viaggi si allungano in maniera sconsiderata. Però non vogliamo neanche dare delle risposte che non siano risposte meditate e sostenibili nei tre anni. Arriva dal 15 gennaio, riaprirà mi pare quattro corse al giorno su Torino, Courmayeur, Torino, Torino, Courmayeur. Ovviamente questi sono servizi a mercato che hanno un costo di utilizzo differenti da quello che è il trasporto pubblico locale. Ragioneremo anche con quella società per capire se si possono organizzare delle formule di ammolamento mensile su quale poter dare un nostro aiuto per poter ragionare anche su questi temi e poi per capire se attraverso quei servizi si potranno allargare ancora gli orari così da colmare questa possibile piccola lacuna o grande lacuna per chi la subisce. Quindi da parte nostra, dico tutto il tavolo, c'è la massima volontà di dare la migliore risposta. Da parte vostra c'è l'esigenza che questo succeda. Cerchiamo di prenderci seriamente tutti il tempo per ragionare nella maniera migliore possibile per aiutarci perché di un aiuto reciproco abbiamo tutti bisogno. Intorno al viaggio ci sono le infrastrutture, qualche giorno fa il comune di Verres sollecitato da RFI ha comunque spaventato, non per colpa del comune, ma RFI dovrà imparare a dialogare sempre a tre. RFI tende un po' a avere un dialogo diretto escludendo gli altri soggetti del tavolo tra in Italia e l'amministrazione regionale. Avremo modo di ribadire che quando si fanno in questo momento qua delle valutazioni su tutto quello che incide sul servizio è necessario che l'amministrazione regionale tra in Italia siano messi in condizione di capire cosa succede. Il parcheggio di Verres, così parliamo del tema specifico che riguarda questo luogo, è un parcheggio che è oggetto del cantiere, nella cantierizzazione del cartiere l'appaltatore ha necessità di spazi, ma abbiamo detto già da due mesi a questa parte che una parte di quel parcheggio deve rimanere libero, che una parte di parcheggi verrà ribaltato e in corso una pulizia nella zona antistanti l'ostello e col comune, che ringrazio il sindaco, ne abbiamo parlato ancora ieri, stiamo ragionando su come permettere di avere delle zone di attestamento delle auto il più vicino possibile a stazione, sapendo che c'è comunque un parcheggio ulteriore che può essere alla bisogna utilizzato. Però ogni cosa è sotto osservazione, ogni cosa è in corso di lavorazione, non abbiamo le risposte immediate pronte per tutto, ma nessuno non sta considerando il fatto che al treno non si arriva in aereo e neanche in elicottero, si arriva in macchina e da qualche parte la macchina bisogna lasciarla. Il problema è che a volte le due entità che governano la ferrovia, chi gestisce Trenitalia e chi fa gli investimenti, hanno finalità completamente poste. Il RFI non sempre si ricorda che le persone devono viaggiare, glielo ricordiamo ogni volta e ripeto, io sono passato per tre giorni di fila, per due settimane di fila, ci sono tutte le mattine dalle 80 alle 95 macchine parcheggiate, e quindi quelle macchine da qualche parte devono essere messe e visto che non siamo tutti così bravi a arrivare dieci minuti prima dobbiamo fare anche in modo che la corsa, salire sull'autobus non sia una corsa ad ostacoli dove uno spintona l'altro per arrivarci prima perché ha parcheggiato mezz'ora più distante. Però voglio alleggerirla per dire che ci sono tanti temi e su Aosta poi avremo modo di parlarne che hanno bisogno della massima attenzione ma anche di una grande collaborazione di tutti i soggetti che sono all'interno di questo progetto. Allora, sono stato anche un po' lungo ma è per dirvi che siamo il più possibile sul pezzo e che cerchiamo il più possibile di essere presenti su tutti i temi. Lascio la parola al direttore di Trenitalia che vi presenterà sia Bus Italia che il fornitore del servizio e soprattutto per cominciare a parlare un po' di orari. Buonasera a tutti, mi scuso per la voce ma è un po' così stasera. Allora, noi quando è nata l'esigenza di trovare un vettore che si prendesse cura del sistema sostitutivo e quindi di farci viaggiare tra Aosta e Ivrea ci siamo rivolti a Bus Italia che per il gruppo Ferrovie dello Stato è un partner esclusivo nella richiesta e nella ricerca di vettori Bus Italia è un soggetto che ha un proprio sistema qualificato secondo le regole del gruppo e quindi a tutti gli effetti era il soggetto giusto per poter chiedere di trovare il miglior operatore che potesse operare in questo frangente. Ci tengo a dire che l'impegno è evidentemente significativo cioè noi oggi chiediamo un servizio svolto da 99 bus al giorno in un giorno medio feriale una cifra significativa e in grado di svolgere un servizio che sia da un lato capillare per servire tutte le stazioni e quindi tutti i punti di salita e discesa dei nostri viaggiatori ma anche di contemperare dall'altra parte la possibilità di utilizzare viaggi più veloci utilizzando anche entrate e uscite in autostrada a Verres, a Ponsa e Marteno, a Quincinetto per sì sì, grazie eccolo qua questo era una rappresentazione di come era il servizio prima cioè fino a oggi con 44 corse giorno di cui 24 tra Aosta e Torino e le altre fra Aosta e Ivrea rimane invariato il numero delle corse fra Ivrea e Torino e 99 corse bus che svolgono il ruolo da un lato di collegare come facevano prima le corse che chiamavamo R quelle non fatte col BTR giusto per darci un'idea e quindi tutte le località dall'altra parte quella di avere un punto di riferimento su Ivrea per garantire i proseguimenti da Torino per tutte le località della valle ma altrettanto da tutte le località per proseguire verso Torino quindi noi ci siamo rivolti a BUS Italia qui con noi c'è Giuseppe Celeste che ci racconta loro che cosa sono e che cosa fanno grazie direttore sono Giuseppe Celeste coordinatore d'esercizio per l'area nord di BUS Italia e in un minutino proprio vi spiego rapidamente chi siamo, che cosa facciamo e soprattutto come siamo giunti all'individuazione dell'azienda vita come affidataria del servizio di autosistituzioni che parte tra pochi giorni BUS Italia Rail Service è la società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane che organizza e gestisce gli autoservizi su gomma quale supporto al servizio ferroviario è interamente controllata da BUS Italia Sita Nord e in collaborazione con Ferrovie del Sud-Est e sotto l'organizzazione e il controllo da parte di Trenitalia il coordinamento soprattutto costituisce il polo passeggeri del gruppo Ferrovie dello Stato italiane la nostra azienda è affidataria unica da parte di Trenitalia dello svolgimento del servizio sostitutivo ferroviario su tutto il territorio nazionale e nello specifico ci occupiamo dell'esecuzione di servizi programmati in orario servizi emergenziali o come in questo caso specifico in servizi programmabili che sono determinati dovuti a interruzioni programmate della rete ferroviaria per offrire alla nostra committenza un servizio capillare di così ampio respiro quindi così su larga scala noi oltre a utilizzare dei mezzi propri ci affidiamo e ci avvaliamo della collaborazione di oltre 200 aziende di trasporto regolarmente iscritte al nostro albo fornitori e ne garantiamo la programmazione il coordinamento e la supervisione delle attività per l'affidamento di questo servizio quindi delle autosostituzioni tra Ebrea e Osta chiedo scusa Bus Italia Rail Service ha espletato una procedura a evidenza pubblica utilizzando il sistema di qualificazione dei fornitori seguendo i criteri definiti dalla normativa comunitaria dal codice dei contratti pubblici e dalle normative e le regole del gruppo FS quindi sono state esperite tutte le procedure e abbiamo individuato quindi dopo aver invitato oltre 150 aziende a partecipare a questa gara abbiamo individuato chiedo scusa di nuovo come affidatario del servizio quindi la gara è stata vinta dalla ditta vita di Arnad è un'azienda del posto è un'azienda nota un'azienda solida strutturata che collabora con noi da diversi anni anche in diverse regioni limitrofe e come dire la collaborazione quindi tra Bus Italia Rail Service e vita sicuramente è proficua e con spirito di collaborazione e in sinergia contiamo di affrontare questa sfida perché si tratta di una vera e propria sfida è un servizio molto importante molto delicato noi dal canto nostro garantiamo la massima disponibilità e la necessaria e dovuta flessibilità operativa soprattutto nelle prime fasi così delicate di avvio del servizio al fine proprio di riuscire a rispondere al meglio alle esigenze della popolazione che la committenza vorrà trasmetterci grazie grazie a lei lascerei magari per una breve battuta Gian Piera conosciamo tutti e conosciamo l'azienda però io credo che sia anche corretto e trasparente diciamo una presentazione una versione inedita non credo che la vita e la famiglia carriera avesse mai pensato di sostituire i treni ma questa volta si trova in una situazione un po' paradossale rispetto alla mission dell'azienda e sono sicuro che con l'orgoglio che caratterizza da sempre lo spirito imprenditoriale cercherà di non far impiangere i treni e di farci vedere che i pulmon possono dare un buon servizio ma era nell'aria da anni che questa interruzione prima o poi sarebbe arrivata e sapevamo che sul materiale rotabile non avremmo avuto dei grossi problemi se non qualche piccolo accorgimento il problema grosso per affrontare questa sfida che è una sfida per fare questo servizio a conti fatti ci vogliono mal contati 50 autisti e sappiamo tutti che in questo periodo qui lavorare autisti è drastico e un anno fa ci siamo seduti intorno a un tavolo e abbiamo fatto questa scommessa siamo partiti con la prima academy a dicembre dell'anno scorso non sapendo in cosa andavamo incontro assumendoli autisti senza patente cioè con la patente dell'autovettura formandoli mettendolici d'accordo con le autoscuole per formare questi questi dipendenti abbiamo formato i primi dieci poi abbiamo fatto la seconda la terza e ora siamo partiti con la quarta academy dovremo arrivare a formarne entro due mesi 55 quindi l'obiettivo è raggiunto e speriamo di poter dare il nostro contributo nel migliore dei modi a questa scommessa a questa sfida per portare l'elettrificazione benedetta se vogliamo dire che da anni che se ne parla alla Valle d'Aostra grazie grazie Jean-Pierre quindi io direi a questo punto possiamo fare una presentazione ripeto vi abbiamo distribuito una coppia cartacea di modo che mi immagino che voi abbiate già tutti consultato l'orario presente da qualche giorno anche quello però entriamo un po' nel merito delle cose più importanti tenendo in considerazione che tutto quello che abbiamo detto fino ad ora ha la sua importanza perché il modello sarà sostenibile in questi tre anni soprattutto se tutti gli attori che sono qua intorno al tavolo sapranno collaborare nella maniera migliore possibile allora noi abbiamo reso visibili gli orari dei bus a partire dal 12 dicembre è stato attivato un tavolo di ascolto dalla regione di intesa con noi e Bus Italia per cercare di individuare quelle che erano le esigenze che un po' per metodo e un po' per come dire sensibilità personali era necessario ritarare quasi fin da subito sul sistema abbiamo ricevuto nel tavolo d'ascolto circa un centinaio di suggerimenti richieste anche consigli su come impostare il servizio sostitutivo di queste ne abbiamo colto quelle che come raccontava anche prima l'assessore sia numericamente sia per rilievo rispetto al servizio originario dei treni ci sembravano più facilmente incontrare le aspettative abbiamo toccato dieci bus in questo sistema e abbiamo ricaribrato in realtà perché si erano leggermente spostati rispetto all'orario del treno delle partenze da Osta nella fascia del pomeriggio 12.40 15.40 16.40 e 45 con tutte le fermate comprese Donna Sonebard e Borgo Franco e anche abbiamo ricalibrato alcuni arrivi ad Aosta del mattino perché c'era stata un'esigenza sia di arrivare un po' prima delle sette e mezza quindi siamo riusciti a ricalibrarci sulle sette e un quarto e un arrivo per le nove e venti questi diciamo sono gli elementi che ci hanno permesso di modulare e ricalibrarci al meglio e sono già evidenti negli orari che voi avete a disposizione e che sono in onda sul sito e sugli sistemi aggiornati di vendita dal 23 di dicembre questo non significa come diceva l'assessore che è finita qua cioè questo è un elemento per fare intanto capire qual è la sensibilità di chi è come dire attore insieme a noi di questo processo cioè subito sono arrivate richieste puntuali mirate e su quelle ci siamo concentrati quelle che erano più circostanziate abbiamo visto che erano più di una e tutte miravano a determinati obiettivi allora su quelle ci siamo concentrati questo non significa come dicevo prima che sia finita qua cioè da qui proviamo a vedere se ricalibrandoci e trovando queste soluzioni ma come si era detto anche nei precedenti incontri siamo riusciti a soddisfare come pensiamo la maggior parte delle esigenze poi il resto lo verificheremo lo valuteremo di volta in volta ovviamente prendendoci anche i tempi delle giuste verifiche perché come si diceva anche prima con l'assessore quando a un certo punto tu dato un'impostazione incominci a toccare sicuramente sai chi scontenti ma difficilmente subito capisci chi di fatto era soddisfatto e viene danneggiato dalla modifica che fai quindi bisognerà intervenire fare le giuste verifiche e poi si valuterà insieme gli interventi da fare ecco magari spieghiamo bene la questione perché voi usate sigle che non tutti a volte la questione degli R degli R ci sono treni slegati voi non so se avete visto nella fascia del mattino a Verres c'è uno che parte le 6 e 40 arriva da Osta adesso alle 7 e 15 quello è un treno è un treno è un autobus libero nel senso che non ha un autobus che se volessimo portarlo dieci minuti avanti per arrivare un po' più tardi ad Osta non cambierebbe la vita di Ponce-Martin Donas One e Chatillon nel senso che viaggia per conto suo perché parte da Verres e arriva da Osta però bisogna capire abbiamo gente che arriva da Osta e sta in città abbiamo gente che arriva da Osta deve prendersi le navette per tornare in Regione Borgnale allora qualche osservazione l'abbiamo avuta su fermiamoci anche Regione Borgnale su questo è chiaro che dobbiamo capirci se noi inseriamo delle ulteriori tappe oltre ad allungare il viaggio rischiamo di farlo diventare il TPL su gomma poi è chiaro che tutti dicono ma ci passi davanti non ci fermi sembriamo persone che non capiscono però o rimaniamo d'accordo che questo è un treno che si trasforma un autobus che si trasforma in un treno quindi si ferma in stazione o se no scombiniamo tutto e a quel punto cominciamo a fermarci a Nils facciamo due fermate e non ne veniamo più fuori quindi non è una non risposta questa è la necessità di non sradicare la natura di questo servizio che è differente da quella allora l'arrivare a Osta alle 7.15 o 7.20 probabilmente è funzionale per chi deve tornare poi indietro verso Regione Borgnalle io so perché lo incontro come tutti voi tutte le mattine che il treno che diciamo ha più capienza al mattino è quello che più o meno arriva alle 7.38 perché scarica tante persone allora su Ponce Martem probabilmente questa esigenza è maggiormente raccolta perché se guardate gli orari c'è un orario che arriva molto vicino a quell'orario diretto ad Aosta su Verresse questa situazione invece è diversa perché si arriva prima dell'orario consueto che è l'entrata di scuola degli studenti dei lavoratori quindi questo per esempio è un orario sotto osservazione perché sicuramente in questo momento sta dando una risposta a una parte di persone e non è detto che la dia a quelle abitudini consolidate di un'altra parte di persone ci sono però altri treni che arrivano ad Aosta a quell'ora che sono che probabilmente avete già individuato che non fanno un percorso diretto che sono meno veloci e qui apro una prima osservazione che sarà tema del mese di gennaio sappiamo anche che ci sono dei tratti in particolare verso Aosta quindi Verresse Aosta che non avendo delle stazioni che intermediano del percorso potrebbero anche vedere dei miglioramenti a pari chilometraggio a pari macchine autisti perché è una cosa che dobbiamo evitare di fare di aggiungere dei servizi se non siamo in grado di coprirli però a pari chilometraggio magari un'entrata in certe fasce di orario una maggiore entrata in certe fasce di orario nei tratti anche brevi tra Verresse e Chation potrebbero già migliorare di molto il tema della Mongiovetta in salita in discesa ecco perché per il benessere per la velocità per quanto conosciamo quanti cantieri tutte le volte abbiamo portare ulteriori bus lì può diventare un problema però in questo momento non è così dico però che c'è un momento di riflessione anche su questi aspetti che potremo fare quando abbiamo centrato la capienza degli autobus ecco perché la cosa più importante adesso è capire dove è sufficiente e dove eventualmente c'è da aggiungere per andare a migliorare però vi dico delle cose perché tutte queste cose sono oggetto di valutazione da parte vostra ma anche da parte nostra perché a differenza di prima il treno che arrivava alle 7.38 e caricava tutti non lo possiamo fare nel senso che a Verresse l'orario probabilmente soddisfa maggiormente quell'esigenza ma meno quella di tornare indietro verso Regione Borgnale e di viceversa qua e questo però per darvi le fasce di erario del mattino che probabilmente sono quelle che una buona parte delle persone hanno necessità di conoscere in maniera approfondita e eventualmente di fare le sue asserazioni io le racconterei queste fasce prego allora il numero dei bus allora questo è l'orario del servizio non necessariamente a ogni colonna corrisponde un bus ci sono colonne con più bus ora per fare un esempio nella fascia del mattino fra un arrivo ad Aosta dalle 7.15 fino alle 7.38 per dire ci sono 2,4,6,8,9 bus ora volendo si possono anche come dire categorizzare all'interno di queste colonne per renderlo magari più evidente ma giusto come diceva l'assessore il dimensionamento è stato cercato di ragionarlo in funzione dei flussi dei saliti e dei discesi che avevamo nelle varie località perché se avessimo fatto tutti i servizi uguali con tutte le fermate è sicuro che avevamo una massa critica con un volume e quindi tot presenti diviso 50 avevamo il numero dei bus ma avendoli differenziati per entrate uscite e tratte in autostrada abbiamo cercato di ricalibrarli su quelli che erano i ragionamenti che avevamo incontrato in un anno di osservazione sui saliti e soprattutto sui discesi in varie località e quindi su quello l'abbiamo dimensionato su questo tipo di orario non si vede la quantità se questa è la domanda sì però sì 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 allora abbiamo predisposto un microfono anche per l'ascolto di chi è da casa così il fatto che dalle 8.06 del mattino fino alle 5 non sono previsti i 40 minuti ma sono previsti i 55 quindi vuol dire sempre solo viaggio in statale le 8 del mattino e pardon e le 17 praticamente in tutta la giornata non sono previste discese di 40 minuti da Osta Verres parlo c'è 8.48 7.48 che arriva alle 18.20 non capisco perché in andata sì l'autostrada e in discesa non c'è l'autostrada eventualmente per abbreviare come dicevamo prima alcuni tratti quindi dobbiamo per forza fare Verres Châtillon per arrivare a Verres e solo per capire se c'è una diversa filosofia nell'andata e nel ritorno capisco che è importante portare la gente a lavorare ma anche il fatto che lo facciano tutti i giorni diventa effettivamente un po' capito la domanda la domanda è chiara la logica era cercare di velocizzare il trasporto del mattino e differenziare anche gli arrivi banalmente perché come dicevamo nell'arco di un'ora o nove bus in arrivo quindi nella fascia del dopo e del rientro siccome si rientra in modo meno impattante sui mezzo di trasporto c'è chi rientra alle 12.40 c'è chi rientra col pullman delle 14.40 15.40 era lì che volevo arrivare ma era lì che volevo arrivare ci sono servizi che possono essere svolti anche con un bus e quindi veniva meno l'esigenza di poter fare se non per tratte vicine un trasporto autostradale poi è chiaro che c'è quello dell'11.833 l'11.830 di oggi che è quello che dice lei delle 13.40 che allora si può ragionare essendo un volume di bus significativo allora si può ragionare di fare delle cose ad hoc questo era il senso dove ho uno o due bus diventava difficile frammentare il trasporto utilizzando anche l'autostrada perché finivo per saltare delle fermate mentre là dove ci sono volumi significativi come nella fascia del mattino allora si può fare allora si può fare un altro alle 13.51 e quindi se uno dei due eventualmente poteva velocizzare il percorso sì sì questo era di nuovo uno dei ragionamenti che stavamo facendo con l'amministrazione proprio su quello lì degli studenti delle 13.40 ma perché ci sono i volumi ma perché ci sono i volumi anche alle 16.45 però di nuovo non è stato considerato il fatto che di nuovo fa tutte le fermate fino alle 17.40 a meno che non ci sia un errore nel foglio che ci avete dato perché io ero rimasta su un vecchio orario in cui c'erano tre treni che scendevano c'era 16.40 a 16.45 ce n'era un altro a fine verso le 5 e adesso invece quello dei 17.04 mi diventa un festivo è cambiato e quindi io ho praticamente solo due treni che scendono uno alle 16.40 uno alle 16.40 due pullman che scendono uno alle 16.40 uno alle 16.45 e poi che è un volume grosso cioè nel senso che sappiamo che è la predominanza delle persone che scendono come pendolari allora il 16.40 e non è stato considerato un gretto ma me l'ha considerato un festivo no però il problema è che in quel volume grande io devo considerare anche Nuss e devo considerare anche Chatillon e devo considerare che l'altro deve fermare anche Borgo Franco cioè alla fine o volumi tipo veramente si eh no si fermano gli stessi si fermano gli stessi autobus che fermavano i treni oggi quattro treni fermano a Borgo Franco domani gli autobus equivalenti fermano a Borgo Franco però è per dire che ho delle stazioni intermedie dove ho veramente un volume significativo di bus come dicevo l'11.8.30 o quelli del mattino e allora davvero lì si possono fare dei ragionamenti gli altri li valutiamo io non sono a prioristico nei confronti l'abbiamo fatto per altri voglio dire per altri servizi non necessariamente ci deve essere una posizione diversa su altri li valutiamo io non ho non ho problemi da questo punto di vista ma comunque sulla discesa bisogna porre la stessa attenzione della salita nel senso che se vi ricordate il primo incontro che abbiamo fatto a da Osta poi Ponce Martini in particolare uno dei criteri per l'utilizzo del tratto autostradale è quello di favorire coloro che hanno una più lunga percorrenza giornaliera e ovviamente poi settimanale quindi questo concetto vale per la salita e deve valere anche per la discesa e quindi su queste fasce bisogna fare un'osservazione e andare a cercare di migliorare già nel corso di mese di gennaio alcune tratte portandole in autostrada ecco perché la gente ha bisogno di andare a lavorare e le condivido pienamente che ha bisogno anche poi di tornare a casa a un certo punto e dieci minuti un quarto d'ora possono fare la differenza in certi momenti quindi sotto questo aspetto prendiamoci qualche giorno per fare delle valutazioni queste sono anche comode nel senso che stiamo parlando di cambiamenti di tragitto e non di aumento di implementazione di scorte e neanche di autisti quindi al vettore per certi versi gli miglioriamo anche la vita perché la vita alla vita la vita alla vita e gli moriamo anche le condizioni di servizio anche perché comunque un volume così importante ai chilometri lo dobbiamo anche preservare dall'incidentalità da tante altre questioni quindi io la raccolgo già da adesso analizzando in maniera analitica possono venire fuori queste cose ripeto non possiamo girare tutti i pullman sull'autostrada perché comunque l'autostrada poi per ora fa pagare anche noi come servizio pubblico e poi su questo discuteremo però la fascia del primo pomeriggio per gli studenti la fascia preserale per i lavoratori e anche per gli studenti va migliorata come tempi di percorrenza rischia di ingolfare poi la statale a questo punto e i tempi di percorrenza nostra non sono più 55 minuti perché comunque ricordiamoci sempre che c'è un chatillon in cui bisogna scendere fino in stazione e quindi la salita e la discesa comunque di tutte le persone è una tempistica che bisogna comunque considerare dopo l'8 di gennaio perché prima sappiamo che non è realistica altre la domanda è se i 55 minuti di percorrenza prevedono tutta statale magari su questo voglia tu rispetto ai tempi ma non tanto per i servizi ma la domanda è tempi di percorrenza i 55 minuti sono il tempo massimo che vuol dire anche il viaggio più lento giusto? sì ovviamente stiamo parlando di Osta Verres poi ognuno ha il suo punto di arrivo il mattino per fare un esempio quello che parte alle 7.40 e va diretto a Verres in autostrada arriva alle 7.15 quindi sono 35 minuti no 6.40 pardon 7.15 sono 35 minuti che sono 20 minuti in meno dell'altro dell'altro servizio ovviamente c'è il costo dell'autostrada da inferire mentre riflettete ricordo che dal primo gennaio gli abbonamenti mensili saranno è stato aumentato il contributo da parte della regione con le risorse che abbiamo previsto nel bilancio al 60% e quindi alla fonte il costo sarà del 40% del costo dell'abbonamento mensile vale sull'abbonamento mensile perché anche qui cerchiamo di aiutare premiare tutti coloro che hanno bisogno per lavoro per studio di una lunga permanenza per coerenza e utilizzo dei mezzi e l'altra cosa che magari poi verrà fuori un po' più in là c'è un tema che è quello legato alle coincidenze delle vallate che ha bisogno stiamo recuperando i dati per quello che riguarda gli studenti fuori valle siamo già più di 70 studenti che sono fuori valle a studiare verso Ivrea quindi su questi anche qui stiamo cercando di recuperare il più possibile dati informazioni anche da parte delle famiglie per mettere insieme i servizi e cercare chi deve andare a scuola ci deve andare per l'orario giusto non c'è l'orario flessibile e quindi su questi anche c'è un'attenta valutazione in questo momento come c'è la valutazione sulla vallata particolare del Cervino per andare a Osta dico queste cose per dire che se il primo giorno le cose non funzionano bisogna capire cosa non ha funzionato per cercare di migliorare il secondo il terzo o quarto giorno perché non ce la faremo su tutto subito quello che non è migliorabile avrà bisogno di nuovi servizi perché non possiamo non dare servizi a chi deve andare a studiare e a chi deve andare a lavorare però dobbiamo vedere se si tratta di due persone non saranno autobus da 50 persone e così dovranno fare valutazioni di tipo diverso e una cosa importante che mi sento di dirvi una delle osservazioni delle altre riunioni è stata non si paga il biglietto sempre meno gente paga il biglietto quindi adesso come faremo a capire se avete dimensionato in maniera giusta allora intanto Trinitalia è stata sollecitata più volte e lo ha fatto più volte il controllo a bordo del biglietto io lo dico in maniera così molto con con molta tranquillità il fatto che non si paghi non dovrebbe autorizzare chi paga non pagare ecco nel senso noi dobbiamo far pagare chi non paga ma non vorrei che passasse il messaggio che ogni tanto sento visto che non controllo ma facciamo anche non pagare neanche più noi ecco non funziona così e anche perché se non capiamo più niente il rischio è che la gente poi dopo visto che abbiamo solo più autobus che girano decida poi di andare dove i servizi sono meno controllati noi controlli ne metteremo magari li implementeremo anche i servizi si pagano ecco quindi se conoscete qualcuno che non paga fateli sapere che è meglio che paghi perché è nell'interesse di tutti perché poi il rischio è che qualcuno che paga magari in mattina si trova 50 persone sul pulma col suo bel abbonamento e se ne sta sotto e qualcuno viaggia facendo il come si dice il portoghese non vorrei offendere il portoghese che non è corretto lo dico scherzando ma attenzione che poi quando abbiamo fatto i controlli ci arrivano le segnalazioni sì ma mi hanno controllato ho preso la multa e questa volta te la sei presa te la tieni ecco perché però facciamo attenzione a far passare il messaggio che non siamo autorizzati a non pagare perché gli altri non pagano dobbiamo far pagare quelli che non lo stanno pagando per rispetto di tutti quanti e questo lo andremo poi a vedere perché tanto una volta che avremo dimensionato l'entrata sui mezzi capiremo quanti abbonamenti sono stati venduti quanti biglietti sono stati venduti e avanti ho fatto un po' dato un po' di informazioni in attesa di altre altre domande o altre osservazioni che ritenete di fare prego su questo è capitato la scorsa settimana sul treno che un controllore è passato e ha detto a tutti che da gennaio verranno controllati tutti i biglietti e tutti gli abbonamenti ogni volta che si sale sull'autobus è capitato una volta solo ma un controllore lo ha detto quindi la domanda è ovvio che quando l'autobus arriva da Ponte non può arrivare prima ma almeno quelli diretti saranno lì un attimo prima perché se tutti i giorni aprono le porte alle 7.20 dobbiamo controllare il brilletto non partiremo mai alle 7.20 Vai tu? No però ora l'idea di controllarli tutti i giorni è come dire è limpida è buona no? Però io non cioè qui dobbiamo fare parte con noi stessi li vogliamo verificati o non li vogliamo verificati ogni cosa ha i suoi tempi è chiaro che tutti i giorni sullo stesso treno è quasi improbabile però diciamo che l'intenzione è quella di avere delle squadre anche volanti che si muovono e soprattutto nella fascia del mattino come dicevamo ci sono dei punti di ritrovo anche solo che alla salita si può controllare anche prima che la gente salga quindi ci sono modi e modi voglio dire non li inventiamo noi sicuramente con questa interruzione perché le interruzioni per i lavori ci sono sempre stati per eventi anche naturali ci si è sempre mossi con l'interesse che il sistema non venga eluso e quindi troviamo i modi giusti e congrui per fare le verifiche ecco quello sì quello sì sono sempre il microfono grazie eventuale sciopero del personale di Trenitalia i pullman aderiscono no è solo per capire bella domanda cioè essendo che ottobre novembre c'è stato veramente un traffico di problemi di questo tipo e viaggiando tutti i giorni ci sono anche questi problemi è solo per capire allora da assessore al lavoro lo sciopero è sacro il diritto di scioperare è sacro evidentemente per scioperare bisogna avere dei motivi in questo caso l'azienda che realizza i servizi ha una fornitura che deriva da una commessa pubblica che è quella di Trenitalia ha una gestione che è di tutta altra natura quindi bisogna anche capire se è uno sciopero del trasporto collettivo se è uno sciopero del trasporto ferroviario se è un problema all'interno delle due aziende che si occupano di ferrovia in Italia ecco quindi non penso che neanche il titolare dell'azienda possa garantire rispetto a questo perché ripeto siamo anche tutti i lavoratori abbiamo il diritto di scioperare però immagino che siano altre le questioni cioè il ragionamento dipende da chi sciopera cioè se ho capito bene la domanda se ho capito bene la domanda se sciopera il personale di Trenitalia il pullman c'è questa è la domanda no ma no no perdonatemi allora potrebbe non trovare la coincidenza Ivrea ok ma se sciopera il personale di Trenitalia il suo personale è un'altra razza fatemi passare il gergo ok chiaro che se sciopera lui è un'altra storia ok avremo la coincidenza Ivrea però non è detto che avremo il treno salvo nelle fasce di garanzia che sono previste ok no no era un settore che nell'altro avevo dubbio di non aver capito bene la domanda però ok capita spesso che la gente rimane in piedi perché non ci sono più posti a sedere cosa succede se arriviamo alla stazione e non ci sono posti a sedere sul pullman allora noi crediamo di aver dimensionato il numero dei pullman e quindi il numero dei posti in funzione di quelle che sono le frequentazioni che abbiamo nella prima fase abbiamo istituito per i primi tre mesi una scorta di un pullman a host e un pullman a Ivrea quindi nel caso dovesse capitare un evento del genere per noi parte la scorta e dobbiamo andare ad analizzare quel giorno lì cosa è successo se è una cosa ripetitiva oppure no però deve essere chiaro per tutti che tante volte io vedo gente in piedi e gli zaini poggiati sul sedile questo oggi oggi va bene uguale domani no no mi credo non è così anche perché li facciamo togliere i zaini per sedere va bene assolutamente comunque cosa succede facciamo così noi analizziamo se quel dato che avevamo noi è da verificare ed eventualmente modifichiamo il numero dei bus perché con ogni probabilità quel volume sia spostato quel giorno quindi può essere anche che ce n'è un altro scarico però non fate salire la gente che rimane in piedi sul pullman ne chiamiamo un altro di pullman scusatemi uno deve aspettare ok no un momento noi ce l'abbiamo pronto cioè faccio un esempio ad Aosta dovesse capitare per i primi tre mesi abbiamo lì una scorta calda pronto con autista e mezzo pronta a partire quindi capiamo il perché è partito e quindi per noi è il campanello per capire che cosa succede su quella corsa diciamo che ma lì non succede c'è un tema anche di organizzazione di servizio noi inizialmente abbiamo pensato ad attestare gli autobus che devono intervenire nei due fondi linea ma probabilmente la cosa migliore sarà tenerlo invece più vicino alla metà del percorso perché sarà lì che potremmo avere le difficoltà maggiori quindi rispetto all'intervento dobbiamo io poi sono abbastanza sicuro lo dico con tranquillità che ci sarà oltre a quello che è previsto dal contratto un'attenzione dell'azienda nella prima fase anche estracontratto perché se non ci sono la gente non la possiamo lasciare a piedi la possiamo portare su mezz'ora dopo ma non la possiamo lasciare a piedi la cosa importante intervenire subito la cosa più importante è capire se si è trattato di una situazione casuale di un giorno dove tutti hanno deciso di andare verso quell'orario o se è stato mal se non è stato sufficientemente valutato il carico di quell'autobus il giorno dopo ce ne devono essere due ecco deve essere molto il ragionamento è molto semplice perché non ci possiamo permettere appunto di sbagliarli questi calcoli facciamo anche attenzione che l'omologazione degli autobus contempla anche dei posti in piedi che non vuol dire che questa è l'abitudine non per questa situazione ma per evitare che poi si confonda con altri tipi di trasporti ci sono se no non faremo girare gli urbani e gli estra ci sono anche in questo caso visto che si tratta di lunghe percorrenze la gente deve stare seduta anche perché altrimenti rischiamo pericolo che non è che non è parte dei servizi che immaginiamo di dare però io vi inviterei anche a tenere accesa diciamo l'attenzione verso il sito perché anche queste segnalazioni possono arrivare in tempo reale ormai cioè il sito è acceso il 2713 è pieno ce lo scrivete noi abbiamo un'osservazione praticamente giornaliera di tutto quello che succede e anche attraverso quello documentiamo un po' che non vuol dire fare la critica vuol dire segnalare un problema e cercare di intervenire almeno noi non la accogliamo come una critica la accogliamo come qualcosa di utile per migliorare sì volevo chiedere se i pullman recheranno dei contrassegni di riconoscimento magari corrispondenti all'orario e se i tre anni di interruzione del servizio sono comprensivi anche del collaudo sulla seconda domanda sì i lavori devono essere chiusi entro giugno 2026 Anfisa che è l'autorità ferroviaria che si occupa della sicurezza del trasporto ferroviario si ha bisogno di sei mesi per collaudare tutta l'infrastruttura a ripartire però sono comprensivi anche di questi sei mesi collaudo invece su come verranno diciamo la visibilità degli autobus e la riconoscibilità è anche questa una domanda più che pertinente perché sì ogni autobus è caratterizzato da un cartello indicatore che reca il numero della corsa e le località che serve quindi avremo la corsa AO 022 da Aosta Ivrea con il logo mi scusi magari con il segnale sia autostradale in mezzo perché mi serve ben poco diciamo che saranno anche formule miste quindi sarà un po' difficile con quelli diretti autostradali sì ma gli altri potranno avere dei tratti autostradali e stradali quindi diventa più difficile contrassegnarlo direttamente come autostradale buonasera mi collego al discorso iniziale dell'assessore giusto e vero che ci sono 90 posti occupati nel parcheggio 30 li avete messi all'ostello più o meno gli altri 60 dove li mettiamo l'abbiamo detto prima ci sono una parte del parcheggio rimarrà ancora utilizzabile l'attuale parcheggio non ci saranno tanti posti però qualcosa stiamo facendo delle valutazioni insieme all'amministrazione per capire se si può recuperare qualcosa in prossimità vuol dire sulla viabilità una parte dei parcheggi possono essere utilizzati in in quel qui si dice il parcheggio davanti all'acis è già pieno ma io quei giorni ho girato anche in quel parcheggio come ho visto quelli pieni ho girato anche però detto questo detto questo il parcheggio si chiude quando c'è la soluzione a RFI è stato detto questo nel senso che noi prima di chiudere vogliamo essersicuri di aver dato un servizio che stiamo sempre parlando di emergenza di provvisorietà quindi un altro ribaltamento da 90 posti non c'è noi gli avevamo anche detto fatevi il cantiere dall'altra parte però c'è tutto un tema di ottimizzazioni che fa parte di altri discorsi noi dobbiamo anche cercare che in questi due anni e mezzo di non porre ostacolo alla realizzazione perché già tre anni sono lunghi vorremmo evitare ci ritroviamo con 60 macchine vaganti e 99 pulmoni che ci passano la giornata voglio dire diventa un po' pesante però dobbiamo dobbiamo provare a dare una risposta la migliore possibile lo abbiamo detto i RFI vediamo nei prossimi giorni come come dimensionare questo lavoro abbiamo ancora una settimana per fare un po' di valutazioni e il parcheggio non chiude immediatamente il 3 ma chiuderà nei giorni successivi e chiuderà quando si può chiudere perché grazie volevo solo fare una domanda per quelle poche volte che ho usato i mezzi ogni tanto ci sono scolaresche che si muovono in gita e usano i mezzi pubblici cos'è opportuno fare per le scuole se è meglio segnalare preventivare o dare indicazioni perché chiaramente sono classi quindi sono magari 10-15 ragazzi mi chiedo qual è il sistema migliore per segnalare la cosa abbiamo perso i primi 10 secondi Paolo scusaci è normale hai ragione ho usato poco i mezzi però ogni tanto capita durante il periodo estivo le scuolegite le scolaresche che si muovono con mezzi pubblici in quel caso sarebbe opportuno preventivarlo come fare grazie allora normalmente le comitive ci chiedono l'autorizzazione a muoversi per anche beneficiare dell'agevolazione delle comitive in funzione dei posti disponibili o del tipo di trasporto che vogliono fare noi ci organizzeremo con Busitalia per garantirgli i posti che servono ovviamente se in quel momento è compatibile con una disponibilità di mezzi autisti cioè faccio un esempio molto probabilmente il giorno dell'Epifania o il ponte dell'8 di dicembre è molto delicato come periodo per trovare dei bus ma è anche vero che le scuole sono chiuse quindi può essere che ci sarà qualche evento per cui magari si chiederà alla scuola di trovare una data diversa ma nell'insieme cercheremo di trovare la soluzione anche a tutte queste esigenze ecco quello sì comunque verrà ribadito le istituzioni scolastiche di muoversi con largo anticipo ecco di modo da non trovarci a dover organizzare un servizio per 70 80 90 ragazzi in prossimità di un diciamo del servizio da realizzare perché l'azienda avrà anche bisogno di un po' di tempo e nel caso che non si possa fare dobbiamo trovare eventualmente delle altre soluzioni mi sento anche di fare una considerazione generale l'atteggiamento di tutti aziende scuole un po' tutti dovrà anche essere quello che questi tre anni sono straordinari cioè non possiamo neanche immaginare di vivere come prima e di pensare che tutto funziona come prima in questi tre anni perché i servizi sono diversi quindi bisogna anche avere un approccio differente da parte di tutti tant'è vero che nell'ultima delibere giunta abbiamo cercato di essere molto attenti per quello che riguarda l'amministrazione regionale a temi che riguardano una modalità di lavoro differente soprattutto per le persone distanti ogni azienda deve anche tenere un po' in considerazione il fatto che questi problemi esistono e che si potranno risolvere nel tempo ma che comunque per questi tre anni i limiti di questo servizio sono quelli che conosciamo poi magari andremo anche a scoprire che alcune cose miglioreranno perché poi proviamo i servizi ecco io direi che prima di dare dei giudizi definitivi dovremo anche capire come le cose funzioneranno non tutte le tratte sono uguali non tutti i percorsi non tutti i bisogni delle persone sono uguali quindi chi lo sa proviamo a lavorare vediamo che risposte abbiamo vediamo anche che soddisfazione io devo dire che la presenza di questa sera è una presenza che per certi versi ringrazio voi che ci siete ma mi rassicura anche un po' perché a Ponce-Martin c'è stato un afflusso in massa direi di persone estremamente preoccupate mi viene da dire che se uno continua a essere preoccupato oggi cercherebbe di essere presente mi pare avete i collegamenti in rete 51 persone quindi stiamo parlando di 4.000 persone al giorno che viaggiano su questa tratta evidentemente sono numeri importanti 51 che sono collegati le persone che sono qua però immagino che un po' di risposte che non vuol dire come prima ma un po' di risposte il lavoro fatto fino ad ora inizia a darle poi le altre continueremo a ricercarle per darle in una maniera migliore possibile fino al 3 gennaio però fino a quando non proviamo non sapremo bene cosa funziona bene e cosa è da migliorare perché tanto ce lo siamo detti in questi ultimi giorni siamo tutti molto concentrati anche preoccupati ma ormai bisogna provarlo questo servizio perché finché finché non parte non è facile capirlo sì ci scarica comunque davanti alla stazione e li fa salire sempre davanti alla stazione dalla stessa parte sia quando arriviamo che quando saliamo ma è solo perché c'è una rotonda ed è già logisticamente un po' affollata di solito è solo per capire se allora al momento anche questa è una decisione provvisoria al momento la discesa da Osta sarà in autostazione al momento nel senso che partiamo così ma dobbiamo capire bene cosa succede in autostazione ma perché per cercare di tenere la gran parte delle persone già dall'altro lato della città in questa fase si tratta di partire così il carico sarà davanti alla stazione il carico sarà davanti alla stazione quindi anche qui per evitare che tutti debbano riattraversare la strada con una confusione totale in autostazione però dobbiamo essere sotto questo profilo c'è la massima attenzione da parte di tutte le aziende perché poi portare ancora più gente in autostazione vuol dire essere molto ordinati e rigorosi nell'utilizzare i percorsi che ci sono perché non dobbiamo creare a voi utenti a chi esce dall'autobus a chi ci deve salire dei pericoli però in questa fase abbiamo immaginato che questa potesse essere la soluzione da provare perché comunque lo vediamo il mattino quando scendete al treno la gran parte della gente attraversa la città domani ci sarà il sottopasso per certi attraversamenti forse sarà un po' più agevole ma oggi è così quindi inutile riportare la gente di qua per farla tornare di là vediamo monitoriamo come vanno le cose in autostazione e poi dopo anche su questo faremo le nostre valutazioni sì grazie è stato già detto il problema del riconoscimento degli autobus tra quelli più veloci meno veloci autostradali eccetera eccetera adesso mi viene in mente sentendo questa questione della partenza dall'autostazione che ci può anche la partenza davanti alla stazione sì l'arrivo ha solo l'arrivo solo l'arrivo quindi non c'è confusione tra gli autobus del servizio pubblico di linea e l'altro però tornando un attimo sulla questione del riconoscimento i treni hanno un loro numero di riconoscimento sono chiamati con quel nome eccetera eccetera per abitudine insomma perché viaggio con i treni la gente non sa il numero del treno sa il treno delle 7.42 quello delle 7.45 eccetera eccetera ci sono nell'arco di pochi minuti anche tre vedo tre diverse tipologie di percorrenza in quel caso non lo so ma ci avrete pensato forse vale la pena di evidenziare molto bene più che i numeri l'orario cioè la gente sa che ha il treno delle 7.45 o quello delle 7.48 e lo saprà dopo che si abitua che hanno delle percorrenze diverse però deve saperle identificare perché altrimenti c'è anche il rischio che si corra da un mezzo all'altro creando confusione noi avevamo un problema di spazi nella cartellonistica avevamo un problema di spazi perché un conto è immaginare un servizio che parte da Osta a una determinata ora 12.40 e arriva a fine corsa ad una determinata ora e poi un elenco di stazioni dove c'è l'orario programmato ma questo ovviamente riduceva tutto il resto allora l'unico modo per renderlo evidente era puntare invece proprio sul numero cioè alla fine c'è l'orario c'è la tratta ma d'origine destino e le fermate che serve ma in qualche altro modo doveva identificare per tutti quanti qual era quello quel servizio altrimenti nessuno avrebbe visto niente poi giustamente è scritto anche sul biglietto salvo gli abbonati ecco buonasera ecco io volevo solo fare questa domanda in previsione degli grandi eventi che ci saranno durante l'anno durante questi anni in Valle d'Aosta vi faccio il primo esempio della fiera di Sant'Orso che è RFI rafforzava il viaggio diciamo i convogli in direzione a Osta sono in previsione anche in questa situazione è stato preso in considerazione anche per fornire vero il benessere dei viaggiatori residenti dei lavoratori ma anche il benessere dei nostri turisti che vengono in Valle d'Aosta ecco questo sì allora la risposta è sì cioè dobbiamo immaginare qualche cosa che sostituisca anche i treni straordinari ok noi facevamo composizioni doppie su determinati treni facevamo dei treni straordinari dobbiamo come dire ricalarci su questa realtà e provare a trovare o un'idea diversa o altrimenti un volume significativo di autobus cioè non ci sono alternative quindi noi un'idea di quantità dei bus ce l'abbiamo se volessimo riproporre lo stesso modello però diventa anche un problema poi logistico di dove metterli questi pullman perché come dicevo prima la mattina ci troviamo con una batteria di nove pullman in arrivo ad Aosta se ce ne vogliamo aggiungere altri quattro poi diventa un altro problema quindi è un ragionamento che va fatto va come ci si diceva prima partiamo intanto con quello che abbiamo per capire se stiamo ragionando su una base solida su cui aggiungere qualcosa dopodiché facciamo tutte le valutazioni è ovvio che bisogna sbrigarsi ma deve partire il servizio se no diventa tutto difficile perché continuiamo a ragionare di ipotesi su ipotesi e quindi prego comunque nei limiti ringrazio tutti perché sono tutti spunti che da un lato ci permettono di dire che su alcune cose sono lavoro e sulle altre invece ci aprono un po' il lavoro da fare e soprattutto ci stimolano a lavorare anche in questa direzione su questo il primo appuntamento è Sant'Orso è lì dietro l'angolo e quindi evidentemente abbiamo necessità di fare in modo che se non di restituire lo stesso servizio del treno che avevamo pensato comunque di far vedere che per quel momento ci organizziamo in termini di servizio pubblico per provare a continuare a dare una risposta perché comunque sua vostra portare maggiore traffico di auto private è comunque negativo quindi se riusciremo ad implementare i servizi e a dare e anzi se riusciamo all'obiettivo di provare a fare già a partire da Sant'Orso qualche cosa di straordinario ecco ogni bus avrà queste indicazioni per la gioia della signora c'è anche Borgo Franco era l'unico cartello quello ne guardiamo qualcuno più completo per essere chiari si ferma a Borgo Franco come giusto che sia il treno che oggi si ferma a Borgo Franco manteniamo per tutti la stessa lo stesso offerto di servizio per la domenica invece ci sono i ragazzi studenti che scendono su Milano e quindi il tratto è anche abbastanza lungo ho notato che cose dirette per essere sicuri di avere comunque una cioè il rispetto della coincidenza su Ivrea visto che bisogna cambiare e poi eventualmente a Chivasso non ci sono si è pensato qualcosa in proposito oppure non è stato preso in considerazione questa possibilità la risposta è che noi abbiamo ridato con una formula diversa i servizi esistenti oggi oggi non c'è un servizio diretto su Chivasso si va Ivrea poi si va a Chivasso poi da Chivasso ci gira poi ci sono dei servizi a mercato che sono sempre quelli di arriva ma sono servizi che hanno concessione interregionale da parte nostra ma sono a mercato quindi se ho capito bene il tema è nel caso che ci dovesse essere la solita difficoltà nella discesa data anche dal traffico autostradale come arrivare il prima possibile a Chivasso per servire Milano questo è questo è uno stato che è praticamente la potenza di chi vada a parte di 50 minuti per poter fare lo stesso viaggio ad esempio c'era un treno che partiva da Verres alle 15 e 14 aveva la coincidenza a Chivasso e si arrivava a Milano alle 6 meno un quarto alle 17 e 45 adesso se non ho letto male perché l'ho letto velocemente è possibile che bisogna per poter arrivare a Milano alla stessa ora bisogna già partire con il treno delle 14 e 21 da Verres quindi quasi un'ora prima insomma sì un'ora prima noi ci siamo concentrati sulla fascia delle 17 che è il treno più utilizzato se devo essere sincero infatti abbiamo fatto una corsa autostradale alle 17 04 che arriva a Verres alle 17 44 e poi lì si muove per arrivare a Ivrea in coincidenza col treno io sono tutti pieni ok allora facciamo così sono tutti pieni per cui bisogna servire anche quelli che sono lungo il tragitto mettiamola così come dicevo prima non pongo limiti ai ragionamenti e alla possibilità di trovare delle soluzioni però è anche difficile contemperare le esigenze di tutti perché tutti hanno bisogno di muoversi e tra l'altro in giornate anche di traffico significativo e quindi lo valutiamo come tutte le altre cose però vorrei come diceva prima anche l'assessore stiamo ragionando di una realtà che ci come dire che ci obbligherà per tre anni ma un po' le nostre abitudini devono cambiare questo questo sì esserne un po' consapevoli voglio solo ricordare che abbiamo recentemente in consiglio regionale approvato una nuova disciplina che aumenta i contributi per l'utilizzo da parte degli universitari di tutte le tipologie di trasporto quindi c'è un contributo implementato per ogni fascia di reddito quindi questo vale anche per i servizi a mercato quindi dovremmo cercare visto che in questo caso avremo tipologie di servizio su rientro a Ivrea e eventualmente Torino e Milano sempre su gomma di cercare anche l'offerta migliore in termini di orario e io ritengo che con l'intervento che abbiamo fatto interveremo anche sugli abbonamenti la possibilità di scelta in particolare per i studenti universitari si amplia poi non è mai sufficiente perché abbiamo chi vuole arrivare a Milano un po' prima per questioni di paura di sicurezza anche rispetto all'arrivo di alcune zone d'arrivo degli autobus chi vorrebbe partire sempre più tardi c'è chi vorrebbe scendere lunedì mattina quindi stiamo cercando anche su questo di mettere insieme dei numeri quindi magari non lo so se ha già avuto modo di fare un'osservazione la raccogliamo comunque questa sera e la prendiamo per buona ma anche sul tema del trasporto per gli studenti universitari rispetto a questi nuovi orari è bene raccogliere indicazioni per cercare di dare anche loro la migliore risposta possibile anche perché giusto per condividerci tutte le le esigenze le difficoltà ogni volta che io frammento per cercare di velocizzare un viaggio come dire perdo l'effetto della l'effetto di scala di avere quattro autobus no e quindi ne devo aggiungere uno ma allora vuol dire che butto nel traffico uno, due quattro autobus in più la domenica quindi probabilmente come diceva l'assessore più si sfrutta quello che già c'è e meglio è anche con modalità legate ai titoli di viaggio perché chiaro è una realtà che mi è chiarissima io appunto volevo chiedere se è stato valutato anche il fatto che tutto questo volume di autobus andavano a incidere su la percorrenza e il traffico comunque della statale e e se insomma erano state valutate le conseguenze di questo visto che hai la voce visto che la voce è buona no allora noi abbiamo fatto un ragionamento immaginando le percorrenze del TPL per le nostre percorrenze no grosso modo se vedete abbiamo tenuto gli stessi come dire percorrenze del TPL pur sapendo che facciamo molte meno fermate perché sapevamo che avremmo introdotto nel sistema un elemento che oggi non c'è però l'alternativa era quanto vale cioè nove autobus che nel giro e abbiamo cercato di cadenzarli proprio per quello cioè di non fare le carovane di autobus perché allora effettivamente diventava un elemento difficile da valutare ma anche difficile da pensare e quindi cercare di provare alterare gli orari di partenza provare a frazionarli negli arrivi avrà forse un impatto però è da valutare come tante altre cose perché non l'ha mai visto nessuno però forse non necessariamente così significativo durante certi momenti della giornata probabilmente in altri sì e si ritareranno gli orari pur sapendo tutti che ritarare gli orari vuol dire anticiparli almeno per la fase dell'arrivo al mattino a lavorare perché portare la gente a scuola in ritardo o a lavorare in ritardo non ha senso si dovrà anticipare questa è la realtà la parte risposta è chiaro che tutto quello che possiamo portare su autostrada piano piano bisogna portarlo sapendo che però viene i costi quindi amministriamo no ma nel senso che amministriamo la spesa pubblica quindi dobbiamo fare attenzione a gestirlo nella maniera più giusta possibile perché la statale comunque non cambierà la vita i pulmi ma quello che si può togliere è bene toglierlo nell'interesse di tutti e quindi non è che potessimo valutare la valutazione non si può fare perché noi abbiamo tolto un servizio dobbiamo mettere un servizio perché se facciamo una valutazione di tipo ambientale probabilmente avremmo fatto altri tipi di ragionamenti e quindi è questo il discorso io spero però che tutte le cose che stiamo cercando di fare compreso l'abbonamento sul TPL a 20 euro dalla prossima settimana inviti anche tutte le persone che giornalmente fanno tratti molto limitati da solo in macchina magari a utilizzare maggiormente il trasporto pubblico ecco perché le abitudini si possono anche un pochettino alla volta a modificare magari le lunghe percorrenze no ma abbiamo servizi di ogni tipo e per ogni tipologia di utenza ecco quindi oggi quel tipo di proposta permette alle persone di viaggiare a meno di un euro al mese su tutto il territorio regionale meno di un euro al giorno pardon su tutto il territorio regionale senza limitazioni 24 ore al giorno se uno vuole passare al mattino salutare l'autista e tornare la sera a dirgli buona cera lo può fare quindi si può utilizzare il trasporto a dei costi estremamente convenienti e magari modificare un po' le abitudini certo che è un grande sforzo ecco oggi noi credo che tutti noi vediamo ancora quanto quante difficoltà abbiamo a usare giornalmente servizi che sono presenti poi magari ci diciamo gli autobus sono vuoti no? perché poi siamo noi stessi a fare un'osservazione critica quindi proviamo a capire se alcuni autobus possono essere maggiormente utilizzabili così da ridurre anche noi a nostra volta un pochettino quel traffico che noi stessi critichiamo perché poi siamo gli stessi che lo creiamo comunque alla fine dei tre anni io sono sicuro che un premio a lei glielo daremo io me lo auguro ma ce lo merita nel senso che le mie osservazioni sono puntuali purtroppo da persona che frequenta assiduamente il treno e anche il trasporto pubblico mi chiedevo se eventualmente un abbonamento unico treno pullman era obiettivo 2024 ma dobbiamo far parlare i soggetti che sono uno a destra e uno a sinistra adesso abbiamo raggiunto il primo obiettivo in consiglio se ne parla sovente è un tema aperto che se riusciamo a raggiungere come obiettivo è un bel risultato per la nostra regione per la comunità per la semplificazione dell'utilizzo dei mezzi di trasporto se siete d'accordo anche perché è il 29 dicembre vi lasciamo tranquilli tutti con l'obiettivo di tenere aperto il tavolo di lavoro virtuale che abbiamo sui servizi io direi si potrebbe immaginare di dar continuità anche gli appuntamenti in presenza magari con questa formula anche nei prossimi mesi l'ho detto all'inizio lo ripeto adesso c'è una parte di utenti canevesani una parte di utenti valdostani che hanno sottoposto il tema del collegamento diretto non abbiamo detto di no abbiamo dei pareri contrastanti su questo è un tema aperto sul quale continueremo a lavorare nei prossimi giorni e quindi chiedo un po' di pazienza intanto utilizziamo i servizi che abbiamo e vediamo se questi servizi possono dare iniziare a dare una risposta se poi la possiamo migliorare lo faremo sicuramente con piacere grazie a tutti buon anno a voi